pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati purificazione del tempio da parte di gesù brano importante dal quale cogliamo tre parole per vivere in modo intenso e significativo questo tempo di quaresima primo purificare il cuore gesù entra nel tempio e compie un gesto profetico fa una frusta di cordicelle e ribalta i tavoli dei cambiamonete dei venditori di animali dicendo non fate della casa del padre mio un luogo di mercato non si trattò di un gesto violento ma di un'azione tipica dei profeti i quali spesso in nome di dio e a tinte forti denunciavano abusi ed eccessi gesù potremmo dire che nel piccolo ha mostrato il fine della sua vita liberarci dal male purificare il nostro rapporto con dio liberare il nostro cuore da tutto ciò che non è verità e amore vedete me cari sin dal battesimo siamo diventati dimora di dio tempio dello spirito santo ma a volte il nostro cuore è ridotto a un mercato a un guazzabuglio di passioni peccati egoismi dove non si vive per la gloria di dio dunque secondo l'amore gratuito ma alla ricerca del tornaconto personale è frequente il pericolo di vivere le relazioni e persino le cose di dio come ricerca egoistica di sé dei propri vantaggi della propria autoaffermazione è brutto ad esempio quando riduciamo la chiesa le parrocchie le comunità a un mercato a luoghi di guadagno dove non regna il dio trino ma il dio quattrino a livello personale possiamo ridurre anche il rapporto con dio a un mercato do la preghiera o un'offerta per sentirmi a posto e mi aspetto la protezione o la grazia che voglio capite non un rapporto d'amore di fiducia piena ma di compravendita do per ricevere posso arrivare a fare anche delle cose di dio sgabelli del mio io ad esempio posso darmi da fare in parrocchia o in diocesi per emergere per guadagnare consensi e non per spirito di vero servizio posso arrivare anche a servirmi dei poveri senza mai servirli per mettere in mostra le mie o nostre performance possiamo vivere un rapporto di interesse anche con gli altri cercandoli per averne qualcosa se non ora in futuro o stare nelle relazioni finché ne ho un qualche contraccambio diceva il papa che può persin passare la tentazione di approfittare di attività buone a volte doverose per coltivare interessi personali se non addirittura illeciti ci fa bene chiederci ma in questa cosa che vorrei fare o che sto facendo cosa cerco qual è il mio vero fine ci fa bene miei cari partire da una sincera consapevolezza aprendo poi il nostro cuore alla grazia chiedendo a dio di rinnovarci di purificarci perché possiamo davvero non vivere più per noi stessi ma per lui che è morto e risorto per noi di vivere veramente la vita come dono baden powell ha fatto notare come la repressione delle tendenze egoistiche e lo sviluppo dell'amore dello spirito di servizio al prossimo aprono il cuore alla presenza di dio e producono un cambiamento totale nella persona dandole un'autentica gioia celeste tanto da farne un essere completamente diverso il problema non è più cosa mi può dare la vita ma cosa posso dare io nella vita non che cosa mi può dare quella persona ma cosa posso dare io a quella persona il servizio inoltre non è solo per il tempo libero ma deve essere un atteggiamento della vita che trova modi per esprimersi concretamente in ogni momento non riceviamo una paga o una ricompensa per un servizio reso e proprio questo fa di noi uomini e donne liberi non lavoriamo per un datore di lavoro ma per dio e per la nostra coscienza seconda parola accendere il fervore i discepoli man mano interpretarono questo gesto forte di gesù alla luce del salmo 69 10 lo zelo della tua casa mi divorerà cioè hanno capito che non solo quell'episodio ma tutta la vita di gesù è stata animata dal fervore dall'entusiasmo per il padre dall'amore per noi e i discepoli capiranno che proprio questo zelo per la volontà del padre che gli ha dato la forza di affrontare anche la passione cioè la sofferenza e la morte di croce dunque tutta la vita di gesù è stata caratterizzata dal medesimo atteggiamento di fervore interiore il fervore miei cari il tempo di quaresima è un tempo dove equipaggiati di preghiera di giuno e dell'emosina chiedere a dio la grazia di riaccendere il cuore un rischio grande miei cari è quello della tiepidezza tirare a campare non sapere nemmeno per cosa stiamo vivendo vivere senza una vera passione oppure in balia di passioni disordinate che ci frammentano e ci consumano la vita di gesù è stata una vita appassionata per il padre piena di passione dunque d'amore per noi ed è proprio quest'amore che l'ha portato a consumarsi per noi a darsi sino alla fine miei cari la quaresima è un tempo bellissimo dove possiamo tornare a dio con tutto il cuore partendo dal riscoprire il valore delle piccole cose quel momento di preghiera curato quella piccola rinuncia quell'opera di carità apparentemente cose piccole capaci però di ridestare la nostra vita spirituale infatti come la tiepidezza è spesso figlia della trascuratezza così il fervore si alimenta con piccoli atti d'amore come suggerisce la parola stessa entusiasmo che viene dal greco en theos in dio e in dio che possiamo ritrovare noi stessi il desiderio d'amare la forza di donarci chiediamo allora allo spirito santo che riaccenda il nostro cuore d'amore per dio per la sua santa volontà per gli altri per le cose belle terza parola purificare la memoria i discepoli probabilmente al momento degli eventi non capirono il vero significato delle parole e dei gesti di gesù ma il loro significato cominciò a chiarificarsi dopo la sua risurrezione ad esempio nel nostro caso i giudei chiesero a gesù quale segno mostri per fare queste cose e gesù disse loro distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere i giudei non capirono dissero ma come questo tempo è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere forse anche i discepoli lì per lì non capirono ma dopo la pasqua rilessero tutto e capirono che parlava del tempio del suo corpo cioè gesù voleva far capire che con la sua pasqua iniziava un nuovo culto il culto dell'amore un nuovo tempio lui stesso cioè è lui il luogo per così dire dell'incontro vero e pieno con dio dunque i discepoli rileggono tutto alla luce della risurrezione le comprendono più profondamente le leggono sotto un'altra luce a livello esistenziale se da una parte abbiamo bisogno di purificare il cuore da quella tendenza egocentrica a vivere per noi stessi dall'altra abbiamo bisogno di purificare la nostra memoria imparando a rileggere le cose alla luce della risurrezione secondo una prospettiva pasquale vedete la memoria non soltanto registra fatti ed emozioni annesse ma anche la lettura che diamo a quei fatti e noi tendiamo un po a vivere anche in base a come vediamo le cose che abbiamo vissuto noi possiamo leggere le cose secondo una prospettiva mondana negativa vittimistica arrecandoci molta sofferenza oppure aprirci alla grazia dello spirito santo ad esempio io posso aver vissuto un momento difficile e fermarmi al lamento oppure posso ricordare un torto vissuto e rimanere chiuso nel risentimento viceversa io posso aprirmi alla grazia dello spirito santo e leggere quel momento difficile come una tappa della mia vita da cui posso cogliere elementi per crescere oppure posso leggere quel torto vissuto come una chiamata al perdono posso vivere una malattia come fine come distruzione oppure come luogo di affidamento al padre posso vedere la morte come fine di tutto oppure come ingresso nella vita vera fra faustino di recente rifacendosi al salmo alla tua luce vediamo la luce ricordava come la luce di cristo possiamo dare un nome nuovo alle cose potremmo dire possiamo rileggere secondo una prospettiva pasquale la nostra vita e dare un senso nuovo alle cose che stiamo attraversando ecco miei cari rileggere ogni cosa secondo una prospettiva di vita alla luce dell'amore che dio ha per noi cari fratelli e sorelle chiediamo al signore che questa quaresima possa aiutarci a purificare memoria e cuore riaccendendo il nostro cuore d'amore per dio per gli altri ritrovando entusiasmo voglia e forza di donarci per vivere in pienezza la nostra vocazione per essere un po come tante piccole candele che accese dalla grazia dello spirito santo fanno luce emanano calore è vero si consumano ma proprio così portano a compimento la loro missione d'altronde miei cari siamo nati per amore e per amare e siamo chiamati a vivere non a vivacchiare che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti